Allora, ci siamo? Tutti hanno votato? La votazione è chiusa. Favorevoli 34, contrari 325, la Camera respinge. Poi c'è l'ordine del giorno 20, Carrescia, favorevole, vado avanti. 21, Roberta Agostini, favorevole, vado avanti. Bene, allora, colleghi, a questo punto sospendiamo l'esame e il provvedimento che riprenderà le 16.15 per lo svolgimento delle dichiarazioni di voto finale e seguirà la votazione finale. La seduta è sospesa, ma riprenderà le 15 per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata. Grazie. Grazie.